chi è lei scusi no vada vada è di zona il tuo roberto adesso ci va a fare una decina ventina non ho ben capito di strada errada chiamata eroico da un buon daniel davanti e compagna metà zinga la chiamata beata abbiamo un punto e virgola che non riesce a capire il buon roberto precedentemente mi ha detto che lui questa strada del gs non la fa ma la fa solo contenere che dice che s pesa troppo per questa tipologia io non penso guardate che spettacolo spettacolo in silenzio contemplativo comunque guardate che spettacolo il bicicletta è davvero dai rovi e quindi così la strada è forse di generare la carattina può dire che non è uno spettacolo guardate è spettacolare il bro è il vecino è il vecino e voi due colorate l'ambiente dico di qui se ci vieni a maggio è una cosa spettacolare ma mi stai bloccando la ripresa credo che sei bello come il sole ma scusa che ne so you are the hero you are the hero you are the hero Grazie a tutti.